Vi auguro una buona giornata. Il messaggio di oggi è dubbio. Scusate la voce ma vai e viene. Sei incerto e nutri dubbi nell'aver trovato il giusto compito della tua vita. Cosa ti deprime così tanto da mettere in dubbio i tuoi piani o la missione della tua vita? Sono le circostanze esterne o è forse la confusione interiore? Potrebbe trattarsi di un test al quale sei stato inconsapevolmente sopraffatto per fare chiarezza su questo aspetto. A volte il dubbio funge da richiamo per una voce interiore in grado di sistemare il caos dentro o fuori di noi. Sono necessari tempi e calma per riuscire a entrare in se stessi. C'è qualcuno nel tuo ambiente del quale ti fidi e che sia in grado di ascoltarti con fiducia saggia e altruista. Parla con questa persona e gli angeli guaritori vi faranno compagnia ispirando l'uno o l'altro, lasciando fluire in voi pensieri accomodanti. Questo è il messaggio di oggi per augurarvi una buona giornata. Grazie.